Tu conosci il Giudone, vero? Sì, ho fatto un programma televisivo con lui. Ok, piccolo pareracaldo? Simpaticone. Ok, altri... Insomma... Simpatico, poi molto ironico. Ironico. Molto. Tant'è che a volte non capivo se stesse scherzando o meno. Madonna, che cazzo diceva? Niente. In che senso, scusami? Ma no, niente. Ma robe volgari? Magari faceva un po' il provolone? No, 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 no. Però faceva delle battute un po' strane. Cioè che non facevano ridere nessuno, dici? No, dai, non ne ho detto. No, ma tanto, vabbè, siamo in pochi guardia. Non è che sta roba qua andrà su web o come Michel Cavallaro fende Giudone dicendo che non fa ridere le sue battute. Vabbè, ma anche lui lo sa che gli scherzo. Ah, ok, ok, ci sta. Vabbè, sono gusti. Cioè, ognuno ha la sua ironia e l'importante... No, no, ma a me è stato simpaticissimo, davvero. Sì, 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 sì. Vabbè, è simpatico, è simpatico, effettivamente. E lui lo conosce? Perché mi ha assomigliato un po'. C'è anche la voce. Sono nel barato tra star male e essere felice. Perché... No, ma... Non so perché, ma un po'... Io non vedo. Cioè, io assomiglio a Giudone? In che... In quale parte del corpo? Ma anche solo la voce, i modi di fare. Sì. Dai, grazie. È stato un piacere. No, sto scherzando. No, ma... Cioè, per me sarebbe solo che un complimento, capito? Cioè, un po' come paragonarmi a... Giuseppe Simone.